Dopo una lunga malattia che ha affrontato con forza e grande dignità, si è spento ieri pomeriggio, all'età di 85 anni, Luigi Scatassi. Volto noto sia a Pesaro, dove era nato, sia a Fano, dove invece viveva, Scatassi lascia una numerosa famiglia. Era un dipendente della provincia in pensione, ma è stato anche commissario tecnico della Nazionale di Pesca Sportiva da Natante. Ha vinto il titolo mondiale nel 1985, il titolo europeo dell'88 e numerosi tornei internazionali. Scatassi è stato anche vice campione del mondo con gli azzurri nel 1984 e con la squadra di San Marino nel 79. Per due mandati olimpici consecutivi è stato consigliere nazionale della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacue e per altri due, a cavallo degli anni 80 e 90, presidente nazionale del settore mare. Tra i migliori pescatori sportivi italiani, sia in mare che in acqua dolce, nel 1962 è stato tra i fondatori della società SPS Pesaro, che ha guidato per oltre 25 anni. Chi lo ha conosciuto, gli riconosce l'onestà e il merito di aver avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo del settore sportivo nella nostra provincia, portando dal livello amatoriale al miglior livello agonistico. I funerali di Scatassi verranno celebrati sabato mattina alle ore 10 nella Chiesa Gran Madre di Dio a San Lazzaro di Fano.